E siccome noi siamo un movimento nato per la libertà, altre leggi liberticide che cancelleremo sono la legge Mancino e la legge Fiano, le storie e le idee non si processano, in Unione Sovietica processano le idee. Perché fanno il processo al ventennio mussoliniano e poi si comportano come il regime nel 1925 che imbavagliava chi non la pensava come la dittatura voleva. Un paese libero di pensare, di parlare, di lavorare e di sognare.